Mancheranno Federica Pellegrini per impegni televisivi e Gregorio Paltrinieri, poi gli altri atleti nel giro della Nazionale Azzurra di nuoto ci saranno tutti per la 43esima edizione del meeting internazionale Mussi Lombardi-Femiano in programma sabato e domenica nella piscina comunale di Massarosa. Gabriele Detti il nuotatore livornese specializzati nel stile libero, già campione mondiale degli 800 stile libero, bronzo nei 400 stile libero e nei 1500 stile libero ai giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016 sarà una delle attrattive come Marco Orsi e tanti altri. Mancherà la via regina di Letta Carli per un infortunio alla spalla proprio alla vigilia della competizione. In comune a Massarosa a martedì mattina la presenza del sindaco Alberto Coluccini, dell'assessore allo sport Franco Simonini, del questore di Lucca Maurizio Dallemura, del direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini e del patron Giovanni Battista Crisci sono state annunciate le ultime novità. Per diversi atleti azzurri il meeting servirà per ottenere la qualificazione e per prendere parte con la Nazionale Campionati Europei in Vasca Corta in programma a Glasgow in Scozia dal 4 all'8 dicembre. Quindi dal punto di vista sportivo sarà una manifestazione che potrebbe regalare emozioni per gli spettatori presenti a Massarosa. La domenica poi sarà riservata come da tradizione anche ai portatori di handicap.